Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa, oggi 29 luglio, il primo giorno mio di vacanza, però la rassegna stampa, qualcuno si chiedeva la zuppa continua o non continua, come pensate che possa non continuare la zuppa? Sono cinque anni che la faccio tutti i giorni, quasi tutti i giorni, insomma la zuppa è un incubo per voi, ci sarà tutte quante le mattine. Cosa è successo sui giornali oggi? Ecco, questo è il vero punto, che la zuppa prima o poi finirà perché io non ce la farò più ad essere frustrato da quello che leggo sui giornali, ve lo dico con grandissima franchezza, perché ogni tanto, vedete, qualche stronzo su internet mi scrive, ah, tu sei quello che votava nel Parlamento che diceva che Rubi era la figlia di Mubarak, vi ricordate questa battuta che esce qualche leone da tastiera, oggi la Boschi utilizza questo termine, i leoni da tastiera, è un'intervista che fa la Medi in cui l'attaccano perché è andata in vacanza, cosa ovviamente senza senso, però comunque il famoso Parlamento che vota per Rubi, figlia di Mubarak, ve lo ricordate? Quando me lo raccontate a me, a me viene da pensare che i 157 parlamentari che hanno votato oggi unici parlamentari al mondo, lo stato di emergenza perché il virus ancora circola, sono esattamente la stessa cosa e io quindi lo giustifico, da berlusconiano convinto li giustifico, cioè il Parlamento ogni tanto ha un aspetto di omni, come possiamo dire, di rincoglionimento totale, mettiamolo, e uno di questi avviene oggi, non voglio neanche drammatizzarla troppo, ma qualcuno che oggi si permette di votare uno stato di emergenza per un'emergenza che palesemente non c'è più, e poi vi faccio capire però che cosa sta succedendo, vuol dire che pensa veramente che Rubi sia la nipote di Mubarak, pensa davvero che l'emergenza economica si possa risolvere con il decreto che abolisce la povertà, possa veramente pensare che il lavoro si crea attraverso il decreto che si chiama dignità, insomma questo è il Parlamento, il decreto dignità, il decreto contro la povertà, il decreto per l'emergenza, se non che il decreto sull'emergenza ha un elemento di gravità in più, anche se dura fino al 15 ottobre e non il 31 dicembre come qualcuno inizialmente pensava, e seconda notizia che vi do, dicono che non ci saranno più DPCM, ma su questo ho molti dubbi, perché bisogna vedere che cosa succede effettivamente nelle proroghe dei passati di PCM, nelle gestioni commissariali, insomma sono tutte cose che vedremo, comunque questi si sono portati a casa lo scudo, una specie di giubbotto di salvataggio che si porta Conte, comunque le sue decisioni, dice Sallusti, non dovranno passare il vaglio parlamentare, si blinda fino ad ottobre, più che un programma di governo, quello che sta cercando di mettere in piedi di questo, diciamo, governo è il copione del grande fratello, non posso dare molto torto a Sallusti, conoscendo un po' la televisione, conoscendo quindi il grande fratello e conoscendo un po' la politica, perché ragazzi ne abbiamo viste di tutti i colori, abbiamo visto il governo che faceva le conferenze stampa, abbiamo visto il governo che faceva Villa Doria Panfili che è servita assolutamente nulla, abbiamo visto il governo degli Arcuri, abbiamo visto il governo delle commissioni straordinarie, del piano Colau, tutte grandi bolle di copione alla grande fratello che non sono servite a nulla. Fantastico oggi il tempo, un giornale che io leggo sempre con attenzione, con no, 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 con tre pezzi da Storace a Bekis, il più duro forse è proprio quello del direttore Bekis che dice Stato, siamo gli unici in Europa, il virus circola ancora e questo sarebbe il motivo per il quale abbiamo lo stato di emergenza, Bekis dice nuova, come dice, cosa dice? Non mi ricordo, nuova arroganza del governo. Nel frattempo poi questi stati di emergenza vengono fatti per che cosa? Per dare potere ad Arcuri, ad Arcuri, ad Arcuri, è riuscito a fare un bando, è riuscito a fare un bando per l'inutile utilizzo dei banchi con le rotelle e i banchi monouso a scuola, che anche un bambino piccolo sa che a scuola, anzi soprattutto i bambini piccoli con cui dovrebbe parlare Arcuri, magari è rimasto lì Arcuri, dovrebbe capire che i bambini piccoli li puoi mettere anche nei banchi separati, ma alla fine al bagno, all'entrata, all'ingresso, puoi fare tutte le separazioni di questo mondo, ma se li metti insieme può essere che non stiano del tutto lontani, ma comunque sia, Arcuri ha questa idea geniale di fare un bando, oggi ce lo ricorda grandissimo Capone sul foglio, che per primo tirò la storia fuori di quell'imprenditore che ho invitato anch'io a Quarta Repubblica, per cui lui voleva che la fornitura fosse minimo di 200.000 banchi, non c'è un'azienda italiana che ne produce 200.000 in così pochi giorni, e in più dovesse aver fatto nei tre anni precedenti almeno 400.000 banchi, cosa che non rendeva possibile per ogni impresa italiana, anche le più grandi, di poter partecipare al bando che sta per diventare deserto. Cosa ha fatto Arcuri? Ce lo racconta Capone, ha cambiato il bando, perché prima fanno i bandi europei, le gare europee, in cui arriveranno soltanto i cinesi, ovviamente, e poi dopo, e poi dopo, si accorge della cagata, perché lui sono tutti quanti liberali col cocktail, Arcuri, tranne quelli che gli danno milioni di euro per i suoi stipendi, che secondo la Corte dei Conti non sono dovuti, ma questi milionari col cocktail non possono mai criticarlo perché Arcuri non sbaglia mai, ricordatevelo, però Arcuri è figlio dello stato di emergenza, è figlio di questa costruzione mostruosa dello stato di emergenza che viene prorogata ieri con il voto di maggioranza del nostro Parlamento. Nel frattempo, però, per esserci un voto di maggioranza sullo stato di emergenza, quello che è successo ieri al Senato, dove ho partecipato anch'io, lunedì, un incontro in cui c'erano Zangrillo, in cui c'erano Clementi, in cui c'era Laggismonti, in cui c'era Cassese, in cui c'era Bocelli, non c'erano quattro scalzanacani come Porro, che è uno che fa la zuppa, fa, come oggi persino la brava Daniela Ranieri, che è una giornalista che seguo sul fatto, è contagiata da questa idea un po' sarcastica, per cui, cos'è che dice che io scambio Levi per Becchi, insomma, sono tutti dei fenomeni, sono tutti un po' leoni da tastiera, anche l'Arianieri è diventata una leona da tastiera, le assicuro che Levi, quello che pensava su Salvini, lo conoscevo molto bene, magari gli faccio un disegnino come scrivono loro, con la loro arroganza, quelli del fatto, però, insomma, questa piccola parentesi la uso, a differenza poi di quello che volevo significare, cioè volevo stare un po' tranquillo oggi, perché queste teste di minchia hanno considerato queste persone che stanno al Senato e che si sono riuniti al Senato come denagazionisti, prima Repubblica, poi Corriere della Sera, e poi è arrivato un ministro, un ministro che si chiama Dinka, l'ho letto oggi sul Corriere della Sera, vi giuro, perché io non ci potevo credere, adesso ve la leggo, questo è un ministro della Repubblica, è un ministro della Repubblica, questo Dinka, e voi mi dite se noi possiamo avere un ministro della Repubblica che si permette di dire, che si permette di dire, cos'è che ha detto, insomma, il convegno è, eccetera, Armando Siri, il Covid non c'è più, ha fatto gran rumore, soprattutto nel luogo in cui si è celebrato il palazzo della biblioteca del Senato, dove eravamo noi, da cittadino, dico che è stata una follia, si indigna anche il ministro per rapporti del Parlamento, dobbiamo sempre ricordare i morti, che cazzo c'entrano? Dinka, cosa c'entrano i morti? Tu sei uno, sei veramente Dinka, è veramente, tu capisci allora che questo è il ministro per rapporti col Parlamento, cioè secondo il ministro per rapporti col Parlamento noi dovevamo, non potevamo parlare, è stato massacrato, Bocelli, da tutte queste anime belle, Bocelli, che ha semplicemente detto, per fortuna che oggi Donelli lo scrive benissimo sul quotidiano nazionale, dice, mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della mia libertà durante il lockdown senza che io avessi commesso nessun reato, non si può dire Dinka, non si può dire Dinka, tu che sei un fenomeno, magari vai a leggerti la Costituzione che dovresti rappresentare, se Bocelli dice la seguente cosa, mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione di libertà senza non aver commesso nessun crimine, caro Dinka, e lo dice al Senato, è il posto giusto in cui lo deve dire, se c'è Zangrillo che parla al Senato e dice che il virus è clinicamente morto potrà dirlo o vogliamo soltanto gli amici di Zinka, di Dinka, quelli dei Novax, quelle cagate che avete fatto eleggere, quelli che dicevano che non eravamo sbarcati sulla luna, eletti grazie a Dinka, gli amici di Dinka sono quelli che dicevano che il 5G fa venire dei tumori, gli amici di Dinka sono quelli del decreto, ecco, quelli stanno in Parlamento mentre noi non possiamo neanche venire ospiti nella biblioteca trattati come delle merde e insultati come Bocelli, Dinka, questo siete voi, voi siete quelli dei Novax che rompono i coglioni a noi perché vogliamo parlare in Parlamento, ma vi rendete conto? Cioè è tutto ribaltato e la psicopolizia è la psicopolizia in cui si salda una certa sinistra con quelli alla Dinka, cazzo, che dice che Bocelli si sente come cittadino, a cittadino de che? Tu sei un ministro della Repubblica, sei un ministro della Repubblica, con i tuoi amichetti ci governi, Gervasoni, il pandemicamente corretto, ma il fatto che ci siano tante persone che ce l'hanno con noi va bene, ma la cosa che mi fa innervosire è che si considera la nostra presenza in Senato una presenza, voglio dire, assurda e forse dicono che la Casellati aprirà un'inchiesta, perché abbiamo parlato al Senato, perché Sgarbi ha parlato al Senato, perché Siri ha parlato al Senato, perché Zangrillo ha parlato al Senato, perché Sabino Cassese si è permesso di dire, Sabino Cassese che oggi deve scrivere a pagina 102 del Corriere della Sera perché se lo cagano zero ovviamente da quando ha queste posizioni, che forse dice Cassese, toc toc, dice forse questo stato di emergenza, voglio dire, visto che non c'è l'emergenza e visto che lo puoi attuare in un secondo e le emergenze si possono, poi c'è Zagrebeschi oggi invece che su Repubblica ci fa una dotta di squisizione sul fatto che hanno fatto bene, ma questo è un altro discorso, Cassese, leggetevelo, dice una cosa molto semplice, quando c'è l'emergenza fate lo stato di emergenza, quando non c'è l'emergenza è inutile tenere lo stato di emergenza tante volte se Cerasa ci definisce dei cialtroni liberali, cialtroni liberali perché Salvini non ha indossato la mascherina, ecco, è tutto messo insieme, un po' come sul caso di Fontana, la cosa più straordinaria di Fontana è che qual è il giornale che si occupa oggi più di Fontana? Martinelli, nuovo direttore del messaggero, mette tutto insieme, lo scudo fiscale, i soldi all'estero, i camici, le donazioni, cioè il messaggero, un giornale che viene venduto a Roma e in provincia, in realtà si occupa della questione lombarda, molto più degli altri perché c'è una specie di odio, come spesso abbiamo visto nel messaggero, evidentemente nei confronti, io sono un romano, figuratevi un po' voi, nei confronti della Lombardia e quanto godono che Fontana sia in questo momento indagato, insomma il messaggero forse poteva avere un pochino di attenzione nei confronti di quello Zingaretti e anche la giudiziaria di quello Zingaretti di quelle sue mascherine, di quegli 11 milioni, della gestione della sanità romana, del fatto che a differenza della Lombardia a Roma non ci va nessuno a farsi curare, ma va benissimo, va benissimo, le notizie sono notizie, così come spiega oggi Fazzo sul giornale, una cosa banalissima, cosa si spiega Fazzo? Che i camici sono soltanto il varco per ricostruire gli affari di famiglia della famiglia Fontana, che è una famiglia ricca e sapete chi ce lo dice? Ce lo dice il Fatto Quotidiano, perché è diventato un reato detenere oggi 31 pubblicati e 4 terreni. Qui abbiamo fatto una radiografia della famiglia Fontana perché ha 31 fabbricati e secondo me scopriremo che qualcuno di questi fabbricati sarà stato preso nel 1750, nel 1820 o nel 1960 da qualche parente di Fontana con qualche traffico strano. Quindi Fontana oggi, a differenza di tutti quanti gli altri governatori di tutto il mondo, è l'uomo meno trasparente e più incapace di tutti. Un'apertura quindi del messaggero e di tutti quanti i giornali giustizialisti contro Fontana. Vedremo cosa finirà di questa storia. Fantastica invece la questione degli immigrati, perché nel frattempo siamo così paurosi per Sgarbi e Porro, i più cialtroni, che si vedono al Senato, mentre gli stessi che oggi fanno fiumi di parole su noi che parliamo al Senato parlando del fatto che non c'è più quell'emergenza di prima sul Covid, non si occupano del fatto che c'è un'emergenza più o meno di cui Feltri si occupa, cioè che le nostre coste sono invase, invase, ma non lo dico io, lo dicono i sindaci del PD. Caro Dinka, il fatto che siano invase lo dice un sindaco del tuo partito di Porto Empedicola e del tuo partito del Movimento 5 Stelle e dice che sta succedendo un disastro in Sicilia, però ovviamente il problema sono Sgarbi, Porro e soprattutto Cassese e Zangrillo che sono al Senato, non le invasioni che i sindaci della Sicilia nel momento in cui cercano di avere un po' di turismo dicono che sta avvenendo da quelle parti. No, non è un problema. Se ne accorge oggi Feltri che dice ovviamente la rivolta dei sindaci siciliani e sulla immigrazione incontrollata che si ha in quelle isole, cosa che era facilmente prevedibile visto che con l'estate e bel tempo i barchini arrivano. Nel frattempo l'economia intesa conquista Ubi, la banca milanese, ma che non è solo bilanese, sostanzialmente per la prima volta ci spiega che una banca fa un'offerta ostile di acquisto nei confronti di un'altra banca e vince questa partita perché ha ottenuto più del 70%. Cosa succederà? C'è un po' su tutti i giornali, l'apertura del sole 24 ore, unica notizia che non c'è sui giornali principali ma c'è sul Corriere di Bologna. Lima, la grande imporesa della famiglia Vacchi, non solo quello che balla amico mio che è straordinario, ma il fratello, il cugino, mi sembra che hanno questa grande azienda italiana che è quotata in borsa, beh Lima vende il 20%, la famiglia Vacchi vendrà il 20% del Lima. Nel frattempo soltanto se ne accorge il quotidiano nazionale il giorno, i monopattini che abbiamo tanto strombazzato, li stiamo incentivando con i soldi dei contribuenti perché si comprano i monopattini cinesi, già 75 incidenti in meno di due mesi. Due cose finali su Wall Street Journal e per la verità anche sul Corriere della Sera riguarda il Big Tech. Facebook, Google e Amazon e Microsoft verranno controllati dal congresso americano per capire se sanno troppo potere e ne abusano, ma la storia più bella è di Facebook e Instagram che secondo il Wall Street Journal, cosa starebbe facendo? Instagram starebbe comprando degli autori, dei creators di TikTok, cioè TikTok è la piattaforma cinese, Instagram va da loro e dice venite da me perché tra poco lancerà una serie di storie che si chiamano Reels, lo lancerà in America e in altri paesi mi sembra il prossimo mese, così dice Wall Street Journal, ma in realtà ha bisogno di grandi personaggi che sono questi personaggi che fanno i balletti di 3-4 minuti e che dove li vanno a prendere? Li vanno a prendere da TikTok e li comprano. Calcio mercato su quelli che ballano e fanno i balletti di TikTok. Ci vediamo domani.